Mi ami. È la prima frase che Gesù rivolge a Pietro nel Vangelo che abbiamo ascoltato. L'ultima, invece, è Pasci le mie pecole. Nell'anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, sentiamo rivolti anche a noi, a noi come Chiesa, queste parole del Signore. Mi ami. Pasci le mie pecole. Anzitutto, mi ami. È un interrogativo, perché lo stile di Gesù non è tanto quello di dare risposte, ma di fare domande, domande che provocano la vita. Il Signore, che nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, chiede ancora, chiede sempre alla Chiesa, sua sposa. Mi ami? Il Concilio Vaticano II è stato una grande risposta a questa domanda e, per ravvivare il suo amore che la Chiesa, per la prima volta nella storia, ha dedicato un Concilio a interrogarsi su sé stessa, a riflettere sulla propria natura e sulla propria missione. E si è riscoperta mistero di grazia generato dall'amore. Si è riscoperta popolo di Dio, corpo di Cristo, Tempio vivo dello Spirito Santo. Questo è il primo sguardo da avere sulla Chiesa, lo sguardo dall'alto. Sì, la Chiesa va guardata prima di tutto dall'alto, con gli occhi innamorati di Dio. Chiediamoci se nella Chiesa partiamo da Dio, dal suo sguardo innamorato su di noi. Sempre c'è la tentazione di partire dall'Io piuttosto che da Dio, di mettere le nostre agende prima del Vangelo, di lasciarsi trasportare dal vento della mondanità per inseguire le mode del tempo o di ricettare il tempo che la Providenza ci dona per vorreci indietro. Stiamo però attenti. Sia il progressismo che si accoda al mondo, sia il tradizionalismo o l'indietrismo che rimpiance un mondo passato, non sono prove d'amore, ma di infedeltà. Sono egoismi pelagiani che antepongono i propri gusti, i propri piani dell'amore che piace a Dio, quello semplice, quell'amore umile e fedele che Gesù ha domandato a Pietro. Mi ami tu? Riscopriamo il Concilio per ridare il primato a Dio, all'essenziale, a una Chiesa che sia pazza di amore per il suo Signore e per tutti gli uomini da Lui amati, a una Chiesa che sia ricca di Gesù e povera dei mezzi, a una Chiesa che sia libera e liberante. Il Concilio indica alla Chiesa questa rotta, la fa tornare come Pietro nel Vangelo in Galilea, all'essorgente del primo amore, per riscoprire nelle sue povertà la santità di Dio. Anche noi, ognuno di noi ha la propria Galilea, la Galilea del primo amore. E anche singolarmente, ognuno di noi oggi è invitato a tornare alla propria Galilea per sentire la voce del Signore, seguimi. E lì per ritrovare, nello sguardo del Signore crocifisso e risorto, la gioia smarrita per concentrarsi su Gesù. Ritrovare la gioia. Una Chiesa che ha perso la gioia, ha perso l'amore. Verso la fine dei suoi giorni, Papa Giovanni scriveva, «Questa mia vita che volga il tramonto meglio non potrebbe essere risolta che nel concentrarmi tutto in Gesù, figlio di Maria. Grande e continuata intimità con Gesù, contemplato in immagine, bambino crocifisso, adorato nel sacramento. Ecco il nostro sguardo alto, ecco la nostra sorgente sempre viva, Gesù, la Galilea dell'amore, Gesù che ci chiama, Gesù che ci domanda, «Mi ami?» Fratelli e sorelle, ritorniamo alle pure sorgenti di amore del Concilio. Ritroviamo la passione del Concilio e rinnoviamo la passione per il Concilio. Immersi nel mistero della Chiesa madre e espossa, diciamo anche noi con San Giovanni XXIII, la Chiesa si è abitata dalla gioia. Se non gioisce, smentisce se stessa, perché dimentica l'amore che l'ha creata. Eppure quanti tra noi non riescono a vivere la fede con gioia, senza mormorare e senza criticare. Una Chiesa innamorata di Gesù non ha tempo per scontri, per veleni e polemiche. Dio ci liberi dall'essere critici e insofferenti, aspri e arrabbiati. Non è solo questione di stile, ma di amore, perché chi ama, come insegna l'Apostolo Paolo, fa tutto senza mormorare. Signore, insegnaci il tuo sguardo alto a guardare la Chiesa come la vedi tu. E quando siamo critici e scontenti, ricordaci che essere Chiesa è testimoniare la bellezza del tuo amore e vivere in risposta alla tua domanda, mi ami, non è andare come se fossimo in una veglia funebre. Mi ami, pasci e le mie peccori. Seconda parola, pasci. Gesù esprime con questo verbo l'amore che desidera da Pietro. Pensiamo proprio a Pietro. Era un pescatore di pesci e Gesù lo aveva trasformato in pescatore di uomini. oltre a ora gli assegna un mestiere nuovo, quello di pastore, che non aveva mai esercitato. Ed è una svolta, perché mentre il pescatore prende per sé, attira a sé, il pastore si occupa dalle altre, pasce e gli altri. Di più, il pastore vive con il grege, nutre le pecole, si affeziona a loro. Non sta di sopra come il pescatore, ma in mezzo. Il pastore davanti al popolo per segnare la strada in mezzo al popolo come uno di loro e dietro dal popolo per essere vicino a coloro che vanno in ritardo. Il pastore non sta di sopra come il pescatore, ma in mezzo. Ecco il secondo sguardo che ti insegna il consiglio. Lo sguardo del mezzo. Stare nel mondo con gli altri e senza mai sentirci al di sopra degli altri come servitore del più grande Regno di Dio. Portare il buon annuncio del Vangelo dentro la vita e le lingue degli uomini condividendo le loro gioie e le loro speranze. Stare in mezzo al popolo. e non sopra il popolo. Questo è il peccato brutto del clericalismo che uccide le pecore. Non li guida, non li fa crescere, uccide. Quanto attuale il concilio ci aiuta a respingere la tentazione di chiuderci nei recinti delle nostre comodità e convinzioni per imitare lo stile di Dio che ci ha descritto oggi il profeta Ezechiele. Andare in cerca della pecora perduta e ricondurre all'ovile quella smarrita, fasciare quella ferita e curare quella malata. Pasci. La Chiesa non ha celebrato il concilio per ammirarsi ma per donarsi. Infatti la nostra Santa Madre gerarchica scaturita dal cuore della Trinità esiste per amare e un popolo sacerdotale non deve risaltare agli occhi del mondo ma servire il mondo. Non dimentichiamolo, il popolo di Dio nasce estroverso e ringiovanisce spendendosi perché è sacramento di amore, segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Fratelli e sorelle, torniamo al concilio che ha riscoperto il fiume vivo della tradizione senza ristagnare né le tradizioni che ha ritrovato la sorgente dell'amore non per rimanere a monte ma perché la Chiesa scenda a valle e sia canale di misericordia per tutti. Torniamo al concilio per uscire dai noi stessi e superare la tentazione dell'autoreferenzialità che è un modo di essere mondano. Pasci, ripete il Signore alla sua Chiesa e pascendo supera le nostalgie del passato, il rimpianto della rilevanza, l'attaccamento al potere perché tu, popolo santo di Dio, sei un popolo pastorale. Non esiste per pascere te stesso, per arrampicarti, ma per pascere gli altri, tutti gli altri, con amore. E se è giusto avere un'attenzione particolare sia per i prediletti di Dio, cioè i poveri, gli scartati, per essere, come disse Papa Giovanni, la Chiesa di tutti e particolarmente la Chiesa dei poveri. Mi ami, pasci, conclude il Signore, le mie peccori. mi ami, pasce, le mie peccori. Non intende sono alcune, ma tutte, perché tutte ama, tutte chiama affettosamente mie. Il buon pastore vede e vuole il suo grece unito sotto la guida dei pastori che gli ha dato. Vuole, terzo sguardo, lo sguardo di insieme. Tutti, tutti insieme. Il Concilio ci ricorda che la Chiesa immagine della Trinità è comunione. Il diavolo, invece, vuole seminare la cisania della divisione. Non cediamo alle sue lusinghe, non cediamo alla tentazione della polarizzazione. Quante volte dopo il Concilio i cristiani non si sono dati da fare per scegliere una parte nella Chiesa, senza accogersi di lacerare il cuore della loro madre? Quante volte si è preferito essere tifossi del proprio gruppo anziché servi di tutti, progressisti e conservatori piuttosto che fratelli e sorelle di destra o di sinistra più che di Gesù? Ergersi a custodia della verità o a solisti della novità anziché a riconoscere figli umili e gratti della Santa Madre Chiesa. Tutti, tutti siamo figli di Dio, tutti fratelli nella Chiesa, tutti Chiesa, tutti. Il Signore non ci vuole così. Noi siamo le sue pecore, il suo grece e lo siamo solo insieme, uniti. Superiamo le polarizzazioni, custodiamo la comunione, diventiamo sempre più una cosa sola, come Gesù ha implorato prima di dare la vita per noi. Ci aiuti in questo Maria, Madre della Chiesa. Ha cresso in noi l'anellito all'unità, il desiderio di impegnarci per la piena comunione tra tutti i credenti di Cristo. Lasciamo da parte gli ismi, il popolo di Dio non piace quella polarizzazione. Il popolo di Dio è il santo popolo fedele di Dio. Questa è la Chiesa. È bello che oggi, come durante il Concilio, siano con noi rappresentanti di altre comunità cristiane. Grazie. Grazie per aver venuto. Grazie per questa presenza. Ti rendiamo grazie, Signore, per il dono del Concilio. Tu che ci ami, liberaci della presunzione dell'autosufficienza e dallo spirito della critica mondana. Liberaci dell'autoesclusione e l'unità. Tu che ci passi con tenerezza, portaci fuori dai recinti dell'autoreferenzialità. Tu che ci vuoi grece unito, liberaci dell'artificio diabolico delle polarizzazioni, degli ismi. E noi, tua chiesa con Pietro e come Pietro ti diciamo Signore, tu sai tutto, tu sai che noi ti amiamo. Grazie.